8 marzo la chiamano festa della donna anche se in realtà da festeggiare non c'è niente perché comunque si ricorda una tragedia quindi festeggiamo tutti gli altri giorni oggi abbracciamo tutte le donne ciao da stefano dj steak 8 marzo festa della donna cosa poter dare loro sicuramente una rosa sicuramente delle belle mimose ma soprattutto rispetto rispetto e buona festa tutte le donne da vince un saluto e un abbraccio a tutte le donne ricordiamoci che è stato il regalo più bello che abbiamo ricevuto non dobbiamo amare rispettarle solo nel giorno della loro festa ma sempre in ogni momento della nostra vita ciao auguri da luciano il menestrello la festa della donna tutti i giorni tutti i giorni dell'anno ma approfittiamo per questa giornata dedicata a loro che è l'otto marzo per augurare tutte le donne del mondo i migliori auguri ciao da mister pino auguri date alle donne delle occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto oscar wild 8 marzo 2021 festa della donna auguri a tutte le donne da scheggia